Siamo alla seconda, una quattro anni sul miglio, sono in undici agli ordini dello start, otto in prima fila, tre in seconda fila. Dopo il botto nell'ultima, unico Luis, un e tredici un po' di spiccio, il Francesco Tufano, 91 in salchi. Chiaramente lui, il love you di casa Luis, è il più gettonato. Undici, tre anni, quattro anni miglio, seconda del convegno allineamento che va a completarsi. Un po' arretrato, unico Luis, che la prende con molta calma. Problemi per il 6, un raggetto, via la macchina, e ad allargo di tutti la spinge la macchina. Ushman B e va facile al comando, su ultimo sanno di dentro, un Brillus. I cavalli affrontano la piegata. Si va al completamento del lancio, nell'ordine del tredici e quattro, e così a metà della curva, un Ushman B, avvicinato da ultimo sanno, che prosegue e chiede strada, lo tiene con un classico freeway. E così il Caterpillar al comando, dopo un quarto iniziale, in 29 e tre, rimasale subito, unico Luis, in mezzo alla pista, e tenta la risalita della comitiva. Si completano i 600, si migliora unico, i 600 iniziali nell'ordine del 43,9, da 1,13 abbondanti. È unico stazione a largo di Ushman B, ha al comando il quattro ultimo sanno. A largo anche Uldro dei Fiori. Si completa il mezzo miglio iniziale, va via ad andatura molto effervescente il leader, 59,5, 15,6 di frazione. E cavalli che affrontano il penultimo rettilineo, ultimo sanno, unico che appariglia Oshman B. Si completa il chilometro, nell'ordine del 14,2, 14,7 di frazione. È unico a gancia il salchi del leader. I cavalli affrontano ora la curva finale, con ultimo sanno, unico alle prese. Si fa notare anche a largo maisto con il suo allievo, cioè Uma Pupa. E Uma Pupa va via dritto e decisa. La figlia di Classic foto è incisiva. Retta d'arrivo con Uma Pupa, che più argomenti di tutti. Uma Pupa aggredissi ultimo sanno. Pochi argomenti per unico Luis, ma scatta bene Urso En con Alberico. Alberico con il suo Urso En va su Uma Pupa. Lotta incerta. Urso En, bentornato Alberico. Una bella vittoria, addirittura contro maisto. Terzo è l'allievo del Caterpillar, ultimo sanno. 11,9,4, 1,58,9, 1,14,3, 8,22 euro in chiusura. Bella vittoria di Mariano Alberico, grazie al training di Merola, ma lui è lui in salchi. Linea allo studio.